Revocate 227 domande di reddito di cittadinanza, 75 beneficiari avevano indebitamente richiesto e percepito la misura assistenziale per oltre 2 milioni di euro. Un post pubblicato su Facebook da Salvatore Riina, in ricordo del padre, a 7 anni dalla sua morte, siamo stati tra la gente per intercettare il pensiero dell'opinione pubblica. Ascensore precipitato a Palermo, per il Consorzio per l'Italia si tratta di un caso limite ma che rappresenta la mancanza di attenzione sulla sicurezza. A Nodo Nostro a Catania l'iniziativa di Santa Filomena District per celebrare il primo anniversario. Si chiude con il trionfo degli atleti keniani la 29esima edizione della Maratona di Palermo, oltre 2 mila partecipanti per la manifestazione. Buon pomeriggio e ben ritrovati alla prima edizione del Tg di Media News. Apriamo con la cronaca Maxi Operazioni dei Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo che hanno revocato 227 domande di reddito di cittadinanza nei confronti di 75 beneficiari che tra il 2019 e il 2023 avevano indebitamente richiesto e percepito la misura assistenziale per oltre 2 milioni di euro. Vediamo il servizio. Revocate dalla Guerra di Finanza di Palermo 227 istanze di accesso al reddito di cittadinanza tra il 2019 e il 2023 dopo un'articolata attività di Polizia Economico-Finanziari in materia di spesa pubblica. Segnalate 75 persone all'Inps per il recupero di oltre 2 milioni di euro. I militari infatti hanno approfondito dettagliatamente le posizioni di una serie di persone già denunciate per avere soffrito della NASPI, l'indennità mensile di disoccupazione pur non avendo mai prestato alcuna attività lavorativa. Si tratta di cittadini palermitani che destinatari in via definitiva di decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Palermo nel 2023 avevano presentato domanda per ottenere il sussidio del reddito di cittadinanza, accedendovi a far data dall'istituzione dello stesso e in pendenza dell'iter giudiziario per i fatti di reato relativi alla NASPI. In corso il recupero delle somme. E cambiamo decisamente argomento. Un post pubblicato su Facebook da Salvatore Riine, ricordo del padre a sette anni dalla sua morte, ha aperto le polemiche. Il figlio del boss non ha mai preso le distanze dagli atti efferati commessi dal genitore. Siamo stati tra la gente per intercettare il pensiero dell'opinione pubblica sulla vicenda. Guardi, io penso che una dichiarazione del genere sicuramente suscita polemiche, suscita malumori in tutti noi. Però io penso che comunque un figlio del padre pensi sempre che comunque è stato il loro padre e che difficilmente si possa rinnegare. Dico, prendere delle distanze sicuramente sì. Un messaggio brutto. Da parte mia, da palermitano mi vergogno di una cosa di questo. Cioè, una cosa che non doveva assolutamente scrivere. Per me il reino non è mai contato nulla e non conterà nulla per la nostra Sicilia. Per me se lo ho affatto soltanto perché il figlio è un conto, in senso di cuore verso il padre, ma che lo vuole ricordare come la persona che ha vissuto una vita a fare delle malevolenze a tutta la società intera, perché lui ha fatto delle malevolenze a tutta la società intera. Per me è sbagliatissimo. Penso che immagino sia vero per loro e che il fatto che viva nell'immaginario comune possa essere utile a ricordare effettivamente i danni che ha causato il personaggio. Quello che preoccupa è che sotto il post in tanti hanno inneggiato a Totorina. Immagino che questo si faccia parte della piaga sociale che rappresenta la mafia. Ogni figlio, logicamente, con tutto quello che magari è venuto fuori di Totorina, un figlio è sempre un figlio, perciò non può parlare e ricordarlo con un bene. Non voglio condannare il figlio. Purtroppo sappiamo tutto quello che di brutto ha fatto Totorina, ma un figlio ideologicamente si esprime così. Non bisogna dimenticare quello che Totorina ha rappresentato per la Sicilia. Che cosa ha fatto per la Sicilia e di certo non è niente di positivo. Quello che ha preoccupato è che sotto il post in tanti hanno inneggiato a Totorina. I social network hanno questo effetto, è un effetto cancerogeno, quindi bisogna prendere sempre con cura tutte le opinioni scritte che personalmente ritengo non siano opinioni, ma sono cascate di haters che scrivono giusto per dilettarsi. Sicuramente è una persona da cui non prendere esempio, quindi magari per i familiari può essere così, che magari è un ricordo per loro, però sicuramente non è una cosa positiva per il resto delle persone. Facebook è un social, è un mezzo di informazione così molto leggero, per cui ognuno dice la propria, anche cose così pesanti che non dovrebbero essere pubblicizzate, perché il problema è anche pubblicizzarle. Doveva cadere nell'oblio una simile notizia del genere. I carabinieri della compagnia di Sant'Agata di Militello hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di sette soggetti per detenzione spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione di oggi è il risultato degli esiti di un'indagine condotta dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Sant'Agata di Militello, coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, guidata dal procuratore Andro Vittorio Cavallo, da cui sarebbe emersa l'operatività degli indagati dediti allo smercio a Sant'Agata di Militello di ascisce e cocaina in favore di diversi assuntori di droga. Dall'attività investigativa avviata dai carabinieri anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini sviluppate attraverso intercettazioni ed altri accertamenti, è emerso che i sette indagati avrebbero posto in essere un'attività di spaccio in modo sistematico attraverso la suddivisione dei ruoli. In particolare è stato accertato che il 24enne destinatario della misura degli arresti domiciliari, avvalendosi degli altri sei indagati, legato da vincoli di parentele e di amicizia, aveva dato vita ad una vera e propria piazza di spaccio, organizzata in modo proficuo e accorto, garantendo una continua e capillare distribuzione della droga. Nel corso dell'attività i carabinieri hanno sequestrato diversi quantitativi di droga e segnalato anche giovani assuntori delle sostanze stupefacenti alla prefettura di Messina. I gravi indizi di colpevolezza emersi dall'attività investigativa dei militari dell'arma sono stati concordati dal GIP del Tribunale di Patti che ha emesso il provvedimento cautelare e seguito dai carabinieri nei confronti dei sette indagati. E continuiamo con la cronaca. In una palazzina di via Mura di San Vito, al Capo, a Palermo, si sono spezzate le corde di un ascensore interno. Cinque persone sono precipitate. Salvatore Nasca, fondatore del Consorzio per l'Italia, dichiara che si tratta di un caso limite, ma rappresenta sempre una spia d'allarme in un settore dove ancora non c'era giusta sensibilità sul tema fondamentale della sicurezza. Ascoltiamolo. A Palermo un ascensore caduto è stata sfiorata una tragedia, un caso limite, ma serve sicuramente più sicurezza. Sì, direi che è arrivato a parlare di ascensore, visto che l'ascensore è comunque un mezzo di trasporto sicuro se è controllato secondo le normative. L'ascensore è un mezzo di trasporto, non è un elettrodomestico come siamo molti di noi portati a pensare. è soggetto a tantissimi controlli e merita grande attenzione. Oltre 44 milioni di persone in Italia lo utilizzano. L'Italia è il secondo paese al mondo dopo la Cina per numero di ascensori. Ahimè però è anche fanellino di coda rispetto all'Europa come Stato membro, visto che oltre la metà di questo milione di ascensori può essere considerato obsoleto. Ritengo che negli anni c'è stata scarsa sensibilità rispetto a questo aspetto, che invece merita grande attenzione. Il settore si è andato sempre di più impoverendo, spostando il campo di gioco in un campo che non è quello che merita. Quindi quale sarebbe una soluzione fattiva? Ma una soluzione fattiva è intanto ricordarsi che è un mezzo di trasporto noi tutti. Noi siamo abituati a conoscere sempre l'autista di chi guida l'automobile e porta il nostro figlio. Non sarebbe accaduto se era un ascensore perché anche la rottura delle funi garantisce comunque una situazione di salvaguardia rispetto alla nostra salute. Ci sono tanti sistemi. L'ascensore è complesso. È un mezzo di trasporto ormai che punta a soluzioni tecnologiche molto avanzate, che si ispira sempre a soluzioni e garanzia della sicurezza. Si cerca di risparmiare anche sulla sicurezza. Questo è un problema già di base? Esiste un tavolo, si chiama tavolo permanente tecnico al Ministero, che riguarda appunto le scelte da apportare nei mezzi di trasporto. Ebbene sono delle rappresentanze relativamente ai treni, aerei, automobili, ma non c'è nessuno che riguarda l'ascensore. Perché gli stessi politici lo considerano un elettrodomestico, non è così. Ci sono circa 500 incidenti anno, di cui 20 che coinvolgono gli operai, e la restante parte terze parti. Voltiamo pagina, rinnovo del contratto nazionale, funzioni locali e più fondi per gli ex contrattisti in Sicilia. Questi temi al centro dell'Assemblea regionale del sindacato CSA Fiadel Cisal. Stiamo portando una piattaforma innovativa per tutto quello che riguarda il combattimento delle funzioni locali, per rendere questo contratto un pochettino più attrattivo, specialmente dai giovani, perché ormai è un contratto che è abbastanza faticente, non dà quelle garanzie giuste ai giovani per rimanere all'interno degli enti. Pertanto stiamo facendo uno sforzo maggiore con l'aiuto anche dell'Aran dell'istituzione per tentare di renderlo più attrattivo e dare la possibilità agli enti di offrire più servizi di qualità, inserendo anche all'interno nuove leve di giovani che rimangono attratti da questo contratto. Anche perché abbiamo un'età media di oltre 50 anni e pertanto poi c'è un calo enorme, c'è una fuga enorme da parte dei giovani da questo contratto. Noi non ci possiamo permettere più questo. Un problema che è tutto siciliano perché ancora i comuni hanno del personale a tempo indeterminato che viene dalle stabilizzazioni ma è a part time. E con tutti i pensionamenti che ci sono stati abbiamo soltanto il personale che nei comuni a part time garantisce un servizio ai cittadini. Quindi bisogna e chiediamo con forza alla Regione che la Regione si faccia carico di poter dare le risorse economiche e finanziarie giuste per poter portare a full time questo personale per migliorare i servizi nei comuni e quindi alla cittadinanza. Terme di AC Reale. Roberto Barbagallo, il Sindaco, segue con un grande interesse il percorso del Governo regionale per il rilancio del termalismo in Sicilia. Dopo il recente sopralluogo della Regione con Feder Terme, Cassa Depositi e Prestiti si registra un ulteriore passo avanti. L'assessorato regionale delle attività produttive potrà avviare le procedure di selezione di partner privati per la riqualificazione e rilancio dei due complessi termali con l'aduzione del programma triennale delle esigenze pubbliche che possono essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico e privato. Si apprende anche che secondo il cronoprogramma previsto dal tavolo tecnico il prossimo passo sarà la pubblicazione degli avvisi per ricercare gli operatori economici a cui affidare la progettazione, la costruzione e la gestione dei complessi termali. Non si può che ringraziare il Presidente Schifani, il Governo regionale e i componenti del tavolo tecnico che con grande celerità e lucidità stanno concretamente rendendo possibile la riqualificazione del patrimonio e rilancio del termalismo in Sicilia. L'intervento Rilancio Terme di Sciacca e Acireale è finanziato con fondi pubblici attraverso 90 milioni di euro dell'Accordo per la Coesione Territoriale 2021-2027. Ammontano invece a quasi 94 milioni le risorse per cui ci si rivolgerà attraverso avvisi pubblici a capitali privati. In totale il costo della riqualificazione delle terme di Sciacca ammonterà poco più di 102 milioni, quello delle terme di Acireale a quasi 82 milioni di euro. Risanamento, borsi universitari ai giovani, Messina, pepista nazionale per valorizzare i talenti. Al Palazzo dei Leoni la cerimonia di consegna a dieci ragazzi che sognano di diventare ingegneri, economisti, informatici. Messina valorizza giovani talenti che sognano di diventare ingegneri, informatici, economisti, educatori e diventa pepista nazionale grazie ad un'iniziativa che mira a colmare le carenze educative di quelle che sono state aree meno fortunate della città, oggetto di un risanamento già avviato in cui tanti ragazzi avevano difficoltà a proseguire la formazione post-scolastica, dovendo, nella maggior parte dei casi, rinunciare a professioni che richiedono preparazione universitaria e la laurea. Da qui l'idea originale e inedita nel nostro paese del progetto Rinascimenti, firmato dall'Associazione Nazionale Scuola Italiana che, attraverso una collaborazione col gruppo Multiversity, ha deciso di assegnare specifiche borse di studio ai residenti di queste zone, attraverso un bando emanato nei mesi scorsi in collaborazione con il Comune di Messina e l'Ufficio del Risanamento. È un'iniziativa che è partita l'anno scorso da un'idea che vede protagonista sicuramente il Comune, la Messina Social City, la Risme, la struttura commissariale che, con tutti i soggetti deputati, sta cercando di risolvere un problema atavico che, ripeto, non è solo quello delle abitazioni nelle baracche, ma anche sociale, rispetto a un ragionamento già avviato con il progetto Novi Percorsi dell'Abitare che abbiamo portato avanti come Comune e che oggi, con queste borse di studio, dà una possibilità in più a quei ragazzi che hanno vissuto periodi particolari in un contesto in cui non dovevano vivere. Quindi stiamo andando avanti con un ragionamento complessivo, tutti insieme, per trovare una soluzione in una città che per tanti anni ha fatto veramente poco. Oggi è il primo passo verso questo nuovo segmento del risanamento. Una nuova tappa, un nuovo tassello che alcuni anni fa era impensabile. Cioè abbiamo capito che dentro queste aree da risanare, fisicamente, ci abitano anche delle persone che vanno accompagnate e aiutate. Lo studio che abbiamo commissionato e fatto attraverso i ragazzi dell'estate addosso ci ha consegnato una povertà educativa incredibile. È importante che le tre università, Unimercatorm, Pegaso e San Raffaele, abbiano voluto dare questo segno di attenzione verso la comunità messinese e soprattutto rispetto a questa realtà particolare del degrado, purtroppo, che ancora resiste a Messina ed ecco perché ci siamo messi in raccordo con i risanamenti, insomma, la realtà che gestisce questi aspetti per dare questo segno oggi più che mai è importante recuperare la speranza a che attraverso l'istruzione, attraverso i percorsi transitari si possa risolvere i problemi delle persone e soprattutto la comunità italiana. Il Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo presieduto dal Sindaco di Palermo Roberto Lagalla riunitosi oggi ha votato all'unanimità la nomina del maestro Marco Betta come sovrintendente da proporre al Ministro dei Beni Culturali confermando l'apprezzamento per l'attività svolta nel suo precedente mandato. A nodo nostro l'iniziativa di Santa Filomena District per celebrare il primo anniversario istituita ufficialmente dal Sindaco di Catania l'area pedonale Sciuti. A nodo nostro l'iniziativa di Via Santa Filomena per celebrare il primo anniversario conferma e suggella l'impegno del Comitato della Via Catanese nei confronti dei cittadini. A un anno dalla presentazione dalla nascita di Santa Filomena District gli esercenti e promotori del Comitato di Via Santa Filomena questa volta non tagliano nessun nastro ma intrecciano simbolicamente un nodo che rappresenta il legame e l'impegno preso nel riqualificare la celebre Via Catanese. Un anno di Santa Filomena District per noi è un obiettivo importante ma soprattutto festeggiamo questo giorno non solo il nostro compleanno ma anche la chiusura al traffico della via e quindi la pedonalizzazione di tutta la zona. Un plauso all'amministrazione comunale che restituisce ancora una volta delle strade ai cittadini questo per noi vuol dire delle strade più sicure più pulite una maggior vivibilità. Questa amministrazione ha dato dei segni tangibili di un'idea nuova di città attraverso le pedonalizzazioni ha voluto creare degli ambienti in cui gli imprenditori possano cercare di fare business di fare non solo turismo ma anche cultura nello stesso tempo anche di intraprendere i loro percorsi commerciali cercando di eliminare le macchine nella consapevolezza che dove non ci sono automobili dove non ci sono veicoli c'è sempre più gente. Ecco perché noi da Piazza Federico di Sveve Piazza Mazzini al Via Garibaldi abbiamo creato le permesse per dei poli nuovi che come Santa Filomena possono in qualche modo creare uno strumento di coesione un nucleo che deve essere valorizzato una sorta di brand che a quel punto se concepito bene e vissuto meglio da chi lo vive a quel punto potrà dare dei bei risultati. Inaugurata a Palermo la mostra Madè Corse e Piloti realizzata da Pippo Madè esposti fino al 24 novembre 22 dipinti che attraversano le varie epoche della storia dell'automobilismo sportivo. Inaugurata a Palermo la mostra dal titolo Madè Corse e Piloti realizzata da Pippo Madè visitabile gratuitamente. Esposti fino al 24 novembre nel caffè letterario del Circo L'Unificato di Palermo 22 dipinti che attraversano le varie epoche della storia dell'automobilismo sportivo. Questa è una mostra unica molto bella lavorata con tecniche miste chiamate tecniche mistiche perché ci sono colorato e colori liquidi e poi ho usato delle vele di oro zecchino e vele di argento perché all'epoca si chiamava l'epoca d'oro quando per le macchine antiche si usava moltissimo il bronzo e poi quando è stato scoperto la cromatura si usò l'argento perché è stato chiamato l'epoca dell'argento e ho voluto così raccontare la storia ma non racconta solo la storia delle macchine assolutamente racconta anche la storia nostra cominciando dai primi del novecento arrivare ai nostri giorni. Ospitare questa mostra del maestro Madec qui accanto a me per noi è un onore innanzitutto ci porta a essere come sempre vicini alle istituzioni siamo nel bel mezzo della città di Palermo e ospitiamo qualcosa di unico e soprattutto il valore della mostra che richiama un po' il coraggio l'amore la passione sono tutte qualità che contraddistinguono un soldato. Una mostra importante è capitanata proprio dall'assessorato ai beni culturali all'identità siciliana proprio perché il maestro Madec è l'essenza dell'identità siciliana peraltro lui ha conosciuto di persona tutti questi sostanzialmente appassionati dei motori e grazie a questa conoscenza è riuscito a elaborare questa mostra che oggi dà lustro non solo a Palermo ma alla Sicilia tutto onore al merito al maestro Madec grazie alle sue iniziative la Sicilia è sempre stata grande. Alla conferenza era presente anche il coro Sante Iosef diretto dal maestro Pietro Bagnasco che ha eseguito una sequenza di canti preferiti dall'artista e concluso con l'inno di Mameli. Ciac, classici, rete, oltre 70 studenti e le scuole medie di Palermo sono stati coinvolti nelle fasi di realizzazione di un film portando i classici della tradizione su TikTok, due cortometraggi realizzati con professionisti del cinema che indagano il controverso rapporto giovani e digitale. Il progetto nasce dalla possibilità di aderire a un avviso della SIAE per la promozione del linguaggio audiovisivo e la sensibilizzazione delle nuove generazioni al linguaggio cinematografico e alle arti espressive. È un progetto ambizioso perché si propone una doppia finalità quella di documentare un progetto importantissimo per la nostra città che è Classicistrada che è un progetto che nasce dalle scuole per le scuole ma soprattutto per il territorio ma si propone anche di riappropriarsi di una dimensione della storia di Giuffà con la sua modalità diciamo scansonata e un po' provveduta si muove nei nuovi linguaggi consentendo anche di dare un'interpretazione immediata di quelle che oggi possono essere diciamo dei limiti alla dimensione della socialità ma che nello stesso tempo sono gli strumenti privilegiati attraverso i quali i nostri ragazzi cercano il contatto con gli altri in questo progetto che si chiama Classici in rete ho interpretato la mamma di Giuffà nel racconto riattualizzato di Giuffà e la porta che è stato intitolato Giuffà stacca la televisione in cui Giuffà deve raggiungere la madre ammessa e bloccato all'interno del suo mondo digitale di immagini della tv così come nel racconto tradizionale stacca la porta prima di andare alla messa e la porta appunto alla madre anche qui porta via la televisione da casa uno degli intenti fondamentali del progetto è quello dell'educazione digitale abbiamo provato a trasformare l'oggetto smartphone da oggetto passivo di fruizione a oggetto attivo di creatività di racconto di narrazione per questo abbiamo voluto trasporre alcune storie della tradizione orale siciliana in primis le storie di Giuffà in chiave moderna con la realizzazione di due brevissimi cortometraggi ironici ma anche un po' drammatici con un messaggio legato al corretto utilizzo degli smartphone in modo tale che i ragazzi potessero prendere un po' più di coscienza sul mondo digitale che li circonda e passiamo allo sport si chiude con il trionfo degli atleti keniani la 29esima edizione della maratona di Palermo oltre 2000 partecipanti per la manifestazione che ha visto andare in scena anche mezza maratona e staffette ancora una volta una maratona baciata dal sole e dal bel tempo a Palermo con oltre 2000 atleti che hanno dato tutto fra le strade e le bellezze culturali della città grande successo di pubblico per la 29esima edizione della manifestazione che ha visto dominare ancora una volta gli atleti keniani la vittoria è andata a Masai Gilbert fra gli uomini mentre fra le donne esultare è stata Iepcorir Paris che era la favorita alla vigilia 1993 classificati in tutta la manifestazione 449 quelli della maratona competitiva per un carnet ricco che ha presentato anche una mezza maratona e le staffette velocissima la prima della Sicilia running team con un tempo che si è rapportato all'individuale avrebbe rappresentato il terzo crono assoluto di maratona la manifestazione ha anche assegnato i titoli italiani individuali di maratona master per ciò che riguarda i siciliani che hanno vestito la maglia tricolore sono stati Nadia Succarina Clara Minagra Pietro Paladino Salvatore Fiammingo Volei maschile cose del Saturnia a Cicastello vittoria sul velluto contro Conad Reggio Emilia è 3 a 0 Tutto facile per la cosa di la Saturnia a Cicastello che archivia in un'ora e mezza di gioco la pratica Conad Reggio Emilia centrando la quinta vittoria saggionale in 3 set tanto spettacolo per gli oltre mille spettatori che hanno popolato gli spalti della Palacatania vera fortezza per gli etnei i quali fin qui hanno sempre portato a casa il successo sotto gli occhi del pubblico amico Sono contento perché abbiamo fatto bene in tanti fondamentali Reggio è una squadra che gioca bene ha vinto a Cuneo tanto per avere un'idea diciamo le parole di questa squadra ma oggi ne abbiamo dato continuità alla battuta fatto un ottimo lavoro a muro e poi nel cambio palla nel side out abbiamo ancora espresso per l'ennesima volta un alto livello era importante dopo il tab break perso a Cuneo di prendere a fare punti abbiamo fatti bene in casa e adesso abbiamo una settimana di lavoro speriamo di non avere ancora problemi fisici con qualche giocatore per prepararci a questa che sarà una delle partite più importanti di questo mese diciamo la trasferta di Siena che oggi ci sono state le fasi di gioco in cui la palla faceva fatica a cadere da tutte e due le parti e siamo stati bravi a vincere quasi tutte le azioni lunghe e questo vuol dire che la squadra sta lavorando in un certo modo la classifica è corta vinci due partite consecutive sei nei primi tre posti ne perdi due sei centro classifica questo è un mese importante per la classifica in generale perché ci sono tanti scontri diretti tra le squadre diciamo cinque e sei squadre che puntano a vincere questo campionato siamo molto contenti ci siamo divertiti anche noi siamo stati bravi a essere cinici tutti quanti i set che sono stati abbastanza simili nonostante i cambi i cambi di reggio abbiamo fatto una bella partita di squadra corale questa partita ci servirà ci serve per prendere fiducia e per costruire e abbiamo bisogno di costruire e stiamo costruendo secondo me siamo nella direzione giusta è stata una bella prestazione di squadra il pubblico ci ha seguito dall'inizio alla fine è stato un bel palazzetto caldo le partite sono tutte importanti il campionato è lungo arriviamo da un periodo in cui abbiamo giocato molte partite in poco tempo quindi adesso abbiamo avuto questa settimana tempo per recuperare per lavorare bene e adesso avremo tempo per mettere la testa sugli nostri allenamenti delle prossime settimane e prepararci alla prossima di partita oltre 350 atleti provenienti da Spagna Malta Tunisia Marocco Svizzera Italia hanno preso parte alle due giornate intense di competizioni sportive di kickboxing e pugilato con atleti di ogni età premiati maestri dirigente e staff giudicanti nel corso della cerimonia d'apertura è stato ufficializzato un protocollo di cooperazione per essere più incisivi sullo sviluppo delle due discipline oltre 300 atleti hanno aderito a questo grande evento internazionale diverse nazioni sono presenti abbiamo appena concluso la cerimonia d'apertura un grande spettacolo come sempre e per due giorni saremo dentro il San Paolo Palazzo Hotel nella sala dei congressi per un campionato che va dalla kickboxing al pugilato al pugilato light ma al pugilato a pieno contatto quindi sicuramente un grande spettacolo di sport da combattimento che ripeteremo ogni anno in questo bellissimo hotel che ci accoglie e nella città di Palermo che è una città solare nel cuore del Mediterraneo e soprattutto gli sport da combattimento appunto come la kickboxing al pugilato hanno preso pieta già da diversi anni e quindi c'è una evoluzione di questo tipo di attività sportiva notevole credo che in Sicilia ci saranno almeno 400 società di kickboxing che fa attività con i siti chi la fa a livello amatoriale però diciamo che c'è una grande presenza e un gran numero che pratica questo tipo di attività e questa era l'ultima notizia vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News a